E' invece il fuoco a minacciare le case di un piccolo centro dell'Australia del Sud, si chiama Port Lincoln, un grande incendio ha costretto gli abitanti a fuggire. Il fronte del fuoco ha raggiunto i 7 km di lunghezza, è arrivato a 2 km dal centro cittadino a causa dei venti che soffiano a 65 km all'ora e alle temperature che sono arrivate a toccare anche i 40 gradi. I vigili del fuoco hanno lanciato l'allarme e vietato severamente di accendere fuochi nell'intero stato dell'Australia del Sud. Grazie.